estate a collio 2024 con il comune di collio e la pro loco di collio lunedì 5 agosto alle 20 e 30 serata con dj scheggia servizio bar offerto dai locali della piazza collio piazza in festa mercoledì 7 agosto alle 18 giardino di loredana in via tizio 229 pratica yoga con aperitivo lezione a cura di terry festival della montagna bresciana sapori in piazza 14 edizione giovedì 8 agosto 2024 alle ore 20 in piazza zanardelli a collio valtrompia acquistando il voucher al prezzo di 20 euro e presentandolo alla partenza del percorso si avrà diritto ad ottenere il coupon per effettuare il percorso inogastronomico i voucher si potranno acquistare entro il 7 agosto fino ad esaurimento presso gli info poi di collio sapori in piazza 14 edizione giovedì 8 agosto alle 20 per il festival della montagna bresciana cucina arte natura e sport i coupon si acquistano anche nei seguenti locali partecipanti a sapori in piazza bottegher bottega di giovanni bottega di valentina mazzelleria lazari alberto ristorante nani trattoria tamì ristorante il cento pizzeria cattullo frutta e verdura bruni annarita formaggi trevalli la dolce pausa bar cristal bar michela wild caffè bar nuovo scivolo sapori in piazza giovedì 8 agosto alle 20 in piazza zanardelli a collio valtrompia con la esibizione del gruppo folkloristico di collio e la vogelte musica di rinaldo gatta sapori in piazza estate a collio 2024 con il comune di collio e la pro loco di collio venerdì 9 agosto alle 20 e 30 presso la chiesa di san rocco cammino di santiago di compostela un incontro sulle esperienze del cammino a santiago di compostela il bosco in pentola sabato 10 agosto dalle 9 e 30 alle 16 e 30 giardino di loredana che ospita il giardino dei semplici osservare conoscere apprendere perché la natura ci offre tutto quello di cui abbiamo bisogno di cui abbiamo bisogno di santiago di santiago di santiago di santiago di santiago grazie a tutti